Carissimi amici, buongiorno. Il Vangelo di oggi, del venerdì della quarta settimana di Quaresima, ci presenta Gesù immerso in un clima molto rovente, un Gesù che vive il dramma dell'abbandono da parte dei capi della sua nazione, che non lo riconoscono per nulla come il Messia atteso. La vera identità di Gesù è sostenuta soltanto dal suo Padre Celeste, il quale gli rende una testimonianza dal Cielo che lo accredita come Messia e anche come rivelatore della verità. A Gerusalemme sono piuttosto seccati del fatto che Gesù non sia stato messo a tacere e si lamentano soprattutto dell'eccessivo lassismo con cui i capi che dovrebbero gestire l'andamento della vita religiosa in quel tempo consentono a Gesù di poter parlare ovunque dentro il Tempio. Ecco, tentano in tutte le salse di poter processare Gesù, di sopprimere questa voce che annuncia la verità. E il racconto evangelico ci parla proprio di una manovra che viene costruita per arrestare Gesù dentro il Tempio, tentativo che poi, nonostante ecco la vanificazione, si renderà abbastanza forte quando ricorreranno ad un espediente per incastrare Gesù e, come sappiamo, tutto questo accadrà di notte dietro la ricompensa al Giuda dei trenta denari d'argento e a Gesù comunicheranno semplicemente la sentenza di condanna. Anche noi, lungo la strada della vita, spesso andiamo alla ricerca di conferme, anche se a volte utilizziamo toni molto duri, aspri, per appellarci alle regole, per farci ascoltare, per difendere anche quelle che sono le nostre personali convinzioni. Ma alla fine che cosa accade? Accade che la vita, per come viene condotta, non può essere un succedersi di decreti imposti, di norme rituali da rispettare, di leggi a cui dobbiamo sottostare. La vita ha bisogno di una verità che la illumini dal di dentro e la liberi soprattutto. Per questo la spregiudicatezza di Gesù, la sua interiore libertà e soprattutto il seguito che accompagna Gesù, mettono sempre più legna sul fuoco nel cuore di questi capi religiosi. E nonostante la tensione cresce, Gesù, vedete, non tace, anzi, grida sempre di più la sua fede e la grida dentro il Tempio, permettendo a molti di ascoltarlo e di scoprire quella che è la sua visione di Dio. Un Dio che alla fine affronta anche di essere incastrato dall'uomo, di essere arrestato dall'uomo. Un Dio che non si arrende e Gesù, vedete, nonostante la brutta aria che tira attorno a lui, non smette di annunziare il volto del Padre e soprattutto di consegnare all'uomo la verità di cui ha bisogno per liberarsi da ogni schiavitù. Per questo Gesù, consapevole anche di quella che è la sua missione, si impegna con tutto se stesso per arrivare fino in fondo. E Gesù sa bene che è l'unico a conoscere il vero volto di Dio. E nonostante chi lo avversa, chi magari pensa di essere credente, pio, devoto, Gesù non fa altro che consegnare nella semplicità dei gesti e nella veemenza della sua parola il vero volto di Dio. Quanto afferma Gesù, sappiamo anche dai racconti evangelici, scuote molto l'uditorio e forse anche a noi oggi la parola di Gesù ci scuote. Troppe volte noi magari ci siamo costruiti anche un'idea di Dio che poi fatichiamo nel tempo a modificare, ma Gesù è venuto fondamentalmente a raccontarci l'intimità di Dio, è venuto a sfidare la morte per convincerci della verità e giungerà alla morte molto determinato, più come non mai, nel tentativo di non lasciare che le nostre paure, il nostro peccato, la nostra fragilità, stravolgano il bellissimo e luminosissimo volto del Padre. Per questo Gesù non sfugge dalla strada, non ha paura di percorrerla, andrà fino in fondo e così farà fino alla fine. Ammirati, storditi, stupiti, vediamo nella passione di Gesù la forza e quella virilità di cui abbiamo bisogno anche noi nell'oggi per poter credere, nonostante le resistenze e soprattutto nonostante l'assordità che spesso alberga dentro di noi alle vibrazioni dell'amore che Gesù ci ha dimostrato. Buona giornata a tutti.